padre pio nato a pietrelcina benevento il 25 maggio 1887 col nome di francesco entrò nell'ordine dei capuccini a 16 anni portò le stimmate ossia le piaghe della passione di gesù dal 20 settembre 1918 per tutta la vita quando morì il 23 settembre 1968 le piaghe scomparvero dalle mani dai piedi e dal costato la sua opera in pietra e la casa di sollievo della sofferenza l'ospedale di san giovanni rotondo costruito con le offerte dei fedeli la sua opera spirituale sono i gruppi di preghiera con 15 milioni di devoti sparsi nel mondo molte le doti soprannaturali di padre pio tra le quali la capacità di emanare profumo la bilocazione e le ipertermie